Tennis Friends 2014, eccoci qui con il grande Amadeus E' un video selfie questo praticamente Siamo andati oltre, neanche il selfie della foto, video selfie, va bene E tutto questo Tennis Friends E Tennis Friends che è la cosa più importante, è un connubio bellissimo che riguarda la salute, la prevenzione, lo sport, il tennis, il gioco, il divertimento Perciò si fa utile al direttevole, oggi con chi fa l'incontro? Non lo so, secondo me non gliel'hanno detto a lui A sorpresa perché non vogliono farlo felice subito, io sono scarsissimo Quindi non lo so, vediamo Perfetto, vinca il migliore, vinca soprattutto la prevenzione in questo caso Quello è fondamentale, la prevenzione a qualsiasi età Poi insomma io ho superato i 50 anni o i 52 e diventa veramente importante Perché piccole cose si prendono in tempo e poi magari dopo possono essere, come dire, purtroppo può essere tardi Quindi la prevenzione a qualsiasi età, in qualsiasi cosa è fondamentale Perfetto, io ti ringrazio del tuo contributo Grazie a te E salutiamo tutti quanti Ciao ragazzi, ciao Un abbraccio Ciao